simona quadarella vincitrice di tre ori agli europei di glasgow nei 1500 800 e 400 stile libero che emozione è stata se l'aspettava sapeva di poter battere le sue avversarie beh mi aspettavo un po di più la vittoria negli 800 nei 1500 nei 400 ovviamente non me l'aspettavo ed è stata una bella sorpresa ecco a un rituale scaramantico pre gara no particolare no però cerco sempre di fare tutto nello stesso ordine in modo da non dimenticare niente ecco ed avere tutto sotto controllo perché sono un po disordinata quindi magari prima delle gare tendo a cercare di essere il più ordinata possibile come ha festeggiato i tre ori li festeggerà anche qui a Roma? devo ancora festeggiarli bene ora comunque cominciano le vacanze quindi festeggerò con amici familiari e tutti ho cominciato a nuotare fin da piccola ho sempre nuotato e ho cominciato a capire di poter fare qualcosa per questo sport nel 2014 con gli europei juniors dove ho preso due ori negli 800 e nel 1500 e da piccola si mi chiamavano Gnappes mia madre mi chiamava Gnappes perché ero sempre ero piccolina ero sempre la più piccolina rispetto alle mie amiche la più bassina la più magra e quindi mi chiamava così per questo hai anche una sorella che fa nuoto? sì una sorella più grande che nuotava ora non nuota più ha smesso da tre anni per motivi di studio c'era competizione tra voi due? competizione no però io cercavo sempre di imitarla e volevo insomma diventare come lei alla fine l'ho superata quindi io mi alleno la mattina dalle 8 e mezza alle 10 e mezza per poi rientrare in acqua alle 4 e mezza o anche alle 2 e mezza se dipende dai giorni e poi inoltre faccio anche due sedute di palestra poi ho finito l'allenamento ovviamente vado a casa riesci a studiare? è purtroppo con il nuoto è un po' difficile anche perché torno a casa che sono abbastanza stanca e la concentrazione è un po' difficile mantenerla la fa la vita della 19enne normale? non di una 19enne normale però nel weekend ci provo ecco però non posso mai darmi alla pazza gioia pensando alle sue ultime vittorie viene automatico il paragone con Federica Pellegrini da poco trentenne c'è competizione tra voi? ancora non mi sento di potermi paragonare a lei perché devo ancora vincere parecchie gare però magari mi sto avvicinando quando si fa sport in maniera agonistica spesso i compagni di squadra diventano amici e molto spesso nascono amori possiamo dire la stessa cosa per lei? ho anche io amicizie e magari simpatie particolari per altre persone ma come è normale nella squadra e in tutto ho diversi obiettivi ci sono l'anno prossimo i mondiali e poi le olimpiadi che sono l'obiettivo principale quindi ora penso a quelli e nella vita privata? nella vita privata vedremo come cambierà magari la mia vita come si vede tra dieci anni? eh con magari tante medaglie al collo sogni di fare anche i 100? no io non ce la farò mai tanto troppo veloci